un saluto a Bartolini e benvenuto sui music fan ciao 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 grazie grazie mille innanzitutto è un piacere trovarti anche perché disco il disco tip secondo me si può definire come un vero e proprio spaccato di vita con tutte le sue sfumature ma quali sensazioni provi a poche ore dal lancio dell'album che comunque mi dà l'impressione di essere davvero molto personale intanto grazie è un piacere mio essere qui e poi si è appunto un diario personale aperto al pubblico uno spaccato di vita del mio ultimo anno e mezzo di vita in cui ho cercato appunto di affrontare tutte le difficoltà le ansie i dubbi la precarietà lavorativa difficoltà relazionali insomma è stato un appunto una sorta di terapia un diario per esorcizzare vari vari traumi però anche momenti positivi insomma sembra che parlo solo di cose negative in realtà è stato un anche un esercizio per me per per appunto andare avanti e ricercare il benessere la positività quindi quindi devo molto a questo album e il fatto che sia fuori mi fa sentire meno protetto al momento perché mi sono chiuso tanto in questo ultimo anno sia scrivere a suonare in giro eccetera quindi chiudermi nell'ascolto dei pezzi che stavano nascendo rimodellarli stravolgerli portarli in studio comunque era una sorta di nuvola di bolla e quindi sapere che adesso quella bolla è pubblica e pettinata anche perché no insomma secondo i vari processi di studio mix produzione mastering eccetera non so che sono molto più legato alle alle canzoni alle versioni alle versioni sporche delle canzoni appena nate quindi certo che adesso è tutto fuori mi fa stare bene però mi spaventa anche perché mi riporta insomma ad uno stato di inizio cioè adesso devo riscrivere ricreare quella sorta di protezione no certo ma guarda rispetto al tuo disco precedente io avverto una maggiore consapevolezza perché se prima cercavi in qualche modo di rifugiarti in una comfort zone ora invece affronti davvero quella che è la realtà adesso parlare forse di età adulta è eccessivo però comunque oggi affronti comunque la situazione in una maniera una maniera differente forse anche più di petto forse con con la capacità forse e soprattutto con la consapevolezza di avere gli strumenti per poterlo fare consapevolezza di avere gli strumenti non lo so però sicuramente c'è una lucidità ed una ricerca di appunto non lo so vorrei vorrei essere sempre più più lucido più adulto la vita comunque mi mette sempre ci mette poi davanti a quella che poi è la realtà però secondo me il compromesso giusto è alimentare anche quel bambino che vive l'inner child che vive dentro dentro di noi sicuramente questo disco qui mi ha aiutato tanto a crescere mi ha aiutato tanto a realizzare anche che tutte quelle figure che appunto avevo intorno e che ho avuto in questi anni che mi hanno aiutato tanto magari non ci sono più semplicemente perché perché stiamo diventando tutti più più adulti e quindi per me come dico nel primo pezzo che poi apre il disco qui non c'è più nessuno che mi può salvare ormai è proprio adesso sono sono io qui da solo e insomma è il punto focale poi che che lega tutti i pezzi il fil rouge tra tra tutte le tracce poi passando da relazioni andate male ritrovate amicizie perse e ritrovate e non sì c'è molta più consapevolezza e sono contento che che arrivi questa cosa sì no decisamente poi tra l'altro hai citato quello che secondo me è veramente il verso manifesto di tutto di tutto il disco quello che comunque rimane subito all'occhio forse proprio perché all'inizio del disco ma in qualche modo che risuona risuona completamente e continuamente ma musicalmente invece una dichiarazione di intenti una vera propria dichiarazione di intenti l'avevo interpretata in questo modo musicalmente invece ci sono diverse influenze e riferimenti ma dal punto di vista sonoro quali sono state le suggestioni che hanno guidato la composizione allora innanzitutto volevo fare un album variegato tantissima tantissime appunto influenze sonore da diversi generi non volevo rispetto anche agli altri dischi è meno compatto magari di viaggio sonoro ci sono pezzi che magari tra di loro hanno un'identità diversa mi riferisco soprattutto alle prime due tracce che appunto secondo me hanno hanno due anime completamente diverse la prima è più il bart di adesso mentre la seconda non odiarmi e primi dischi quindi influenze new wave chitarre basso dritto batteria dritta 180 bpm insomma quello che facevo prima le le influenze sono sono tantissime spaziano dall'hip hop dal rap americano all'rnb al punto all'indie rock new wave brit pop inglese c'è proprio di dare una mia interpretazione tutto quello che poi ascolto sempre ascoltato della mia vita insomma quindi ci sono stati degli artisti che mi hanno maggiormente accompagnato in questo viaggio come ad esempio mcmiller che a livello di liriche e testi per resta forse il mio preferito in assoluto e quindi diciamo che parto anche da da testi hip hop mi sono molto infronzato da quella cultura lì però poi cerco di interpretare tutto di reinterpretare tutto e dargli insomma una un'identità mia un'identità anche non so sono un grandissimo fan dei rem per esempio ho ascoltato tantissimo i rem in fase creativa però anche i cure quelli più giocosi redocci di peppers però anche insomma un po di tutto quello che sono e che ascolto sì personalmente ho apprezzato molto anche questi riferimenti a questo questo rock dei primi anni 90 ci sono delle delle sfumature che ho apprezzato particolarmente ma parlando sempre di quello che è di quello che è il disco di come è nato il disco il 24 maggio dobbiamo ricordare che sarai a milano tornerai a milano al miami ma sei redocci anche da un 2023 importante dal punto di vista live la tua esperienza live dello scorso anno tanto tanti concerti tante tante esperienze dal vivo quale valore giunto hanno dato alla composizione del progetto? hanno dato tutto hanno dato tutto perché intanto mi sono dal punto di vista proprio fisico umano mi sono liberato di tantissime ansie prestazioni ho ridotto quella quel problema che avevo insomma perché suonare è sempre fonte di un'ansia tremenda che devo imparare in qualche modo a gestire l'anno scorso questo è stato fondamentale per me perché grazie a questa questa esperienza questi questi concerti appunto perché non solo ho suonato con il mio progetto ho avuto la fortuna di suonare come musicista per poi un amico che è l'il cane che sta anche nel disco e abbiamo fatto poi tra datemi e date sue estivo primaverile eccetera abbiamo fatto una ventina di date e ho scritto diversi pezzi anche in viaggio in tour molte canzoni sono nate sul furgone mentre insomma da rientro da trasferte di tre date di fila e poi prendevo il treno e andavo a Bologna perché avevo la mia data quindi mi trovavo una settimana a fare quattro concerti diversi e molti pezzi devo dire sono nati sono nati così insomma in viaggio certo ma si avverte secondo me comunque un'attitudine live infatti sono curioso di vedere poi anche dal vivo tutti questi questi brani come verranno come verranno proposti ma hai parlato appunto anche di collaborazioni ogni singola collaborazione credo che riesca a fornire davvero un valore aggiunto ce le puoi descrivere brevemente tutte le collaborazioni che stanno in questo disco sì io poi fondamentalmente sono riesco a collaborare solo con al momento è in senso ho collaborato sempre solo con amici molto molto stretti per cui per esempio tripolare Gabriele è prima di tutto intanto un'artista che stimo tantissimo che mi piace tantissimo ma poi soprattutto un amico le canzoni nascono tutte un po' a caso i miei featuring insomma fino ad ora sono nati tutti cioè mai con l'intento di becchiamoci in studio facciamo la cosa a tavolino vediamo scriviamo la strofa di qua di là no è sempre sono sempre il frutto di giornate passate insieme totalmente freestyle diciamo anche anche bugia è nata è nata un po' così con Alessio siamo stati vicini di casa per tutto quest'anno e abbiamo vissuto insieme quindi era stato naturale ci vedevamo la mattina passavo tutto il giorno insieme in giro e non so è come se la musica fosse un po' intorno di quella che è la la nostra amicizia quindi quindi per me questa cosa è preziosa e spero che insomma arrivi questa questo approccio questo legame sì ma arriva soprattutto quando questo disco arriva la sincerità la sincerità comunque di aver di essersi messi a nudo da un certo punto di vista e sotto più punti di vista quindi secondo me secondo me arriva l'ultima domanda è proprio legata insomma principale questo certo mi incuriosisce poi quello che sarà quello che sarà il poi perché appunto un disco così così personale comunque mette sì sì già lo dicevi all'inizio in qualche modo devi essere preoccupato però un disco così personale secondo me apre delle porte diverse quindi quanto può cambiare anche il tuo futuro chiaramente è impossibile non abbiamo una palla di cristallo ma quanto può cambiare il futuro musicale riguardo appunto dopo aver prodotto dopo aver lavorato un disco con questo? sicuramente mi da tantissima forza e energia rispetto al passato non voglio più fermarmi voglio stare sempre attivo e già insomma in questi giorni non voglio non voglio fare l'errore che ho fatto in passato diciamo di mettermi troppo comodo lì godermi troppo il momento no per me in realtà cioè la sto vivendo come se questo disco fosse già uscito da un mese e sto cercando di essere il più produttivo possibile di surfare quest'onda che è stato un anno veramente pieno di musica pieno di appunto live esperienze bellissime e spero di far uscire nuova musica presto di scrivere anche per altri mi piacerebbe tanto una cosa che ho sempre voluto fare anche da piccolo però non pensavo fosse possibile pensavo non lo so ci fosse tipo una sorta di 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 lobby di non lo so delle tecniche delle cose sovrannaturali per poterlo fare la vedo come una roba super cioè non accessibile insomma quindi una volta sbloccata questa 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 ansia diciamo che adesso mi sento veramente contento di quello che sto facendo e spero di di non fermarmi insomma di di non avere magari dei momenti di down come ne ho avuto in passato era anche un momento storico diverso sempre un cerchio che poi si ripete però cioè nel senso i momenti di down arrivano ci sono sempre sono anche necessari però spero di averne il meno possibile ecco questa è la mia assolutamente io non posso che ringraziarti ti auguro buona musica e speriamo di vedersi presto anche dal vivo grazie mille grazie davvero grazie a tutti